Ok, ci saremmo modo per saperlo, no? Cazzo! Dovevo sapere, merda! Non mi sento che non so nulla! E... ho bisogno di sapere tutto di nuovo. Sono un demone. Agito più lentamente e... posso manipolare mentalmente le persone. Non so se sia una cosa buona o una cursa. No, no, questo è un'avventura. Potrei usare queste cose molto veloce, credo. Cazzo, che messa! Come on, man up, Louie. I'm still the same old me. Demon or not, I'm still in charge of my actions. And this father, I know nothing about. Yes, I've still got a lot to learn. It's enough to drive you crazy. Everything I believed in, nothing holds true anymore. Ok, stai calmo adesso. I need to find some answers. There's no way of being alone for a minute! Ah, ok, vediamo, che diavolo volete? No, prima voglio vedere cosa c'è in questa stanza. Questo? No, inferno di Dante. Oh, tutti quelli che entrano qui. Slocca! Esiderato mi serviva. Perfetto. C'è altro? Pappa reale. Aspetta. Sì, fammi recuperare, così mi prendo questa. Grazie. Eh, qui che c'è? Sì, 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 sì. Ok, non era niente. Qui non c'è niente, qui non c'è niente. Oh, finalmente di nuovo giorno, cazzo! Era ora! Ma è tutto il gioco nell'oscurità! Sir Gregory? Greg? Buon giorno, Louis. Penso che sarebbe buono parlare. Come ti senti? Ok, Greg. Ok, sentiamo. Da quanti... No, spero. Difficoltà, persuasione, costo ridotto di più uno. Perché? Perché ha la... La... Dove cazzo è Gregory? Holm, eccolo. È immune alla persuasione, ecco perché. Ok. Ok. Va bene. Ok. Ci sono altre famiglie? Sì. 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 Mia madre è morta, però sono un... Cazzo di... Dio... Super potente che può fare leggere i pensi... È una figata! Sì. 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 Ok. Ok. Perché si sta rivelando? Mh-hm. Mh-hm. Non è facile, e noi tutti facciamo ciò che possiamo per succedere, ma io non posso giustificare questa rebella perpettuale contro le nostre regole. Niente, nessuna domanda. Con riguarda l'umanità. Cosa vuol dire? Beh, per centenze abbiamo stato cercato di aiutare e quindi di preservare l'umanità. I monarchi sono semplici e pratici. Ci sono iniziato a inspirare l'umanità efficace, e non posso capire perché William vuole cambiare l'umanità con la democrazia. La tensione è non per dominare l'umanità, perché non lasciare l'umanità dei nostri destini? Io capisco questo tipo di reazione da voi, ma meno da William. La principale cosa che hai bisogno è tempo. L'umanità è tranziante, e una di loro particolari è che non insegnava da le errori dei miei amici. L'umanità di un'attività incredibile di energia, creare e distruttare qualcosa che lui ha messo in place. Ok. Ehm, capisco. Ehm, capisco. Da questo punto di vista, è meglio di guiderli. È raro per un dèmon novice a mangiare di stoppire di pensare come un uomo così rapidamente. È stato fatto centrii per la nostra famiglia di stabilire un pazzo tra i dèmoni. Grazie a questa politica, abbiamo potuto decidere tutto per confinare le altre famiglie a subordinati. Ok, di cosa stai parlando allora, ciccio? Ok. Ok. Ehm, in pericolo. Ehm, in pericolo. Ehm, in pericolo. Ciao zio. Ci vediamo, eh. Raggiungi Mortimer nel suo studio. Ok, però io vorrei andare... Anche se ho ucciso mia madre, vorrei bombarmi Emily. Quindi... Direi di andare a bombarci Emily. No, di qua. Di qua. No, 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 la direzione è sbagliata. Senti, fammi bombare Emily. Io entro... Vaffanculo. Hai ucciso mia madre e mi dice anche che non posso entrare nella stanza. Ma ti stupro. Vieni qua. Che diavolo fai Emily? Uh, hey. Oh, hey. Ehm, sexy Emily. Wow. Oh, Emily. Mi sa che ti devo bombare Emily. Ehm, fino a che punto arriverà nella sua illa... Un giorno la pagherà? No. Ehm, no. 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 che succede qui è molto più grande che tu e io, hai fatto le vostre scelte e ora hai dovuto prendere la responsabilità per loro devo dire qualcosa di importante Emily, ascoltami sono fredda di parlare è su quello che sta succedendo qui è su Mortimer e Holm so che sono dei demoni non è tutto, vai sono uno di loro, Emily sono dei demoni anche ma cosa? ma cosa? benvenuti benvenuti alla famiglia tu? 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 ma non ti posso più bombare così mi sento mi sento davvero e che Emma è anche tua oh vera figa però ahahah 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 siamo come siamo come Jamie e Cersei vieni qua che ti bombo di nuovo abbiamo commesso un errore anch'io sono attrasato da te dai vai voglio vederla questa dai oh oh che cazzo è stai cercando di controllarmi stronza ok ahahah oddio oddio Emily oh che che chiappa Emily madonna oh invece non ti lascio dormire vieni qua che ti spacco vieni che ti spacco oddio Emily oh mia sorella eh oh oh ah scusate ragazzi devo devo andare sì sì devo andare da Mortimer quindi eh let's go anzi perché non ci divertiamo un po' col vecchio Napoleone Bonaparte del cazzo nooo dai gioco non mi vuoi far divertire cazzo ma che pezzi di merda dai volevo volevo divertirmi con quello stronzo volevo trollarlo malissimo ah ehi tu cosa fai qui Washington Louie busy as always I see how lucky you are I must admit I'm trying to kill the boredom myself ok we're all in the same boat and here I was thinking you might have some juicy gossip oh atteso l'arrivo di un ultimo arrangement ma ma pardon sì un certo al azife вмh quindi il padre al azife National non ringa bell o no i morti cannot hang out here any longer he has nothing to say me neither he must have misunderstood the conference is started Godoy is a little too used to court intrigue col cazzo che ti dico che sono un demone presidente voglio sfruttare il tuo paese per sempre fare un da par tutto mio con blackjack e squillo di lusso ok ok c'era altro da vedere qua non mi pareva vabbè no sti cazzi vado direttamente nel suo ufficio ah era lì non l'avevo neanche visto ok cosa aspetta no aspetta non ho capito aspetta quindi lui è il padre di emily ok lui è il padre di sara quindi emily e sara sarebbero sue sue quindi emily non è mia sorella ma è mia zia oh ancora più sexy affascinato ok Preoccupato per voi Che Wait dov'è Dov'è lui Mortimer, William Allora Immunità per frutturare Immunità alle scienze Proviamo questa Ok Sembrerebbe Sembrerebbe Dastardo non mi risponde Allora Beh è un punto di vista interessante Ma è fatti È fatti Allora Allora Sì Allora 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 Allora